parentine ragazzi mi hanno mandato un nuovo completo da bici ovviamente estivo da provare da mostrarvi partiamo dalla maglia intima taglia xs maglia intima adatta per primavera estate io la uso maggiormente nelle giornate appunto primaverili perché quando fa molto caldo non metto nulla sotto la maglia ma di questo periodo un buon intimo traspirante aderente per rimanere un po più asciutti addosso e per fermare un po di vento freddo che magari si può incontrare nelle prime ore della giornata può far sicuramente comodo poi veniamo ai pezzi forti salopet modello tour intenso con fondello platino salopet di fascia alta alta gamma tutta nera con finiture in giallo fluo finiture ovviamente sulla zona della inferiore della coscia vi mostro anche il fondello come dicevo platino quindi fondello sempre di alta gamma parentini prodotto ragazzi interamente in italia precisamente in toscana quindi parliamo dei prodotti made in italy prodotti che sono realizzati con fibre 100% riciclate e con un occhio all'ambiente perché anche il processo di lavorazione minimizza il diciamo l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera infatti c'è questa targhetta che lo ricorda e ci sono queste buste in liuta credo che si chiami al contrario delle classiche buste di plastica che inquinano solamente invece queste anche se appunto sono realizzate in materiale riciclato e riciclabile quindi dicevo salopet taglia s e ovviamente anche la maglia ovviamente sempre parentini giallo fluo con queste righe grigie che si abbina perfettamente al giallo della salopet la maglia per la precisione è una tour volata con zip lunga che ovviamente alla zip che arriva fino alla fine dietro c'è questa bella striscia riflettente sopra le tasche posteriori che ovviamente sono tre e oltre alle tre tasche c'è anche questa zip laterale che permette di mettere magari soldi o qualcosa che non si vuole perdere che poi basta chiudere la zip e è al sicuro sempre taglia s anche la maglia e ragazzi che dire molto bella non rimane che provarla e vedere il risultato Ciao! 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 Grazie a tutti.